Sono molto felici di riospitarti nuovamente per queste condivisioni sulle emozioni, su come conoscerle e come dire diventare familiari con qualche strumento che ci dà la possibilità di affrontarle con un po' più di serenità. Allora, oggi siamo arrivati all'argomento della rabbia, tema piuttosto interessante e sono sicura che ci sarà molto interesse e approfitto dell'occasione per dire se avete delle domande, scrivetele e poi vediamo di fare un po' una selezione tra le varie domande. Fabio tu hai circa, diciamo così, un'oretta a disposizione e poi vediamo di rispondere alle domande. Esatto, va bene, benissimo, benissimo. Siamo di concentrarle in questo modo qui. Molto bene, molto bene. Come sapete questo è uno spazio che è stato organizzato da FPMT Italia, che conta circa dieci centri in tutta Italia, per cui Fabio è uno degli insegnanti che insegnano regolarmente nei nostri centri, per cui poi quando riapriranno ci ritroverete di nuovo lì, oltre che in questo spazio virtuale. E dunque, buona serata. Bene, bene. Io disattivo il mio video perché so che c'è qualcuno che ha problemi di connessione e quindi i video occupano molta banda, quindi tendenzialmente spegnerai il video, sia mio che degli altri. Ok, va bene. Buona serata. Grazie, grazie, grazie. Benvenuti a tutti. Sono contento di essere qua e dunque eccoci a grande richiesta dopo il nostro incontro dedicato alla paura. Vi ricordate c'era stata diverse domande anche sul tema della rabbia e poi molte persone hanno suggerito di provare a trattare anche questo tema che è un tema attualissimo, non solo per il momento che stiamo vivendo. Siamo tutti non solo impauriti e tristi, ma anche magari un po' arrabbiati, ma indipendentemente da questo diciamo che è una delle emozioni dominanti del nostro panorama emotivo, individuale, di relazione con gli altri e di relazione sociale, col mondo che ci circonda, eccetera. Dunque io sono, come magari qualcuno di voi sa, sono un grande appassionato di questo tema, sono un grande appassionato di rabbia, è stata una delle emozioni per me che mi ha dato moltissime occasioni di pratica, di studio e di investigazione della mente. Dunque è un tema con cui ho debuttato a suo tempo nel campo della formazione, è un tema che mi piace approfondire sempre di più, l'ho approfondito con diversi insegnanti e anche all'interno del percorso di equilibrio emotivo con Alan Wallace e Paul Ekman. Paul Ekman, psicologo americano di cui io sono allievo, è un ex rabbioso e anche lui dunque ha approfondito tantissimo questo tema ed è un tema che con i suoi studenti tratta molto volentieri e approfondisce con un'investigazione psicofisica, cioè dove va a osservare tutto ciò che comporta questa emozione sulla mente, sul nostro fisico, sul nostro corpo, eccetera. Allora, la rabbia è una delle sette emozioni universali e anche in questo contesto come la paura, che era un'altra delle sette, è un'emozione che è comune a tutto il regno umano e animale. Dunque è un'emozione che anche quando qualcuno può dire, ah ma non è un'emozione, io non provo mai rabbia, in realtà magari non è stata osservata, ma diciamo che la rabbia ha dei suoi automatismi, si innesca a fronte di una percezione di minaccia da parte dell'ambiente, da parte delle persone, da parte dei nostri sistemi relazionali e appunto difficile non provarla, non averla mai agita e non aver avuto a che fare con questa emozione. È l'emozione più pericolosa in assoluto, più pericolosa in assoluto perché potenzialmente è un'emozione che può arrecare danni a noi stessi e alle persone che abbiamo intorno, cioè danni proprio non solo di natura psicologica ma anche di natura fisica, cioè la rabbia ha un suo tema, un suo tema universale che è quello di eliminare, e uso proprio la parola eliminazione, di eliminare l'oggetto che compromette il mio benessere in quel momento. Ricordatevi sempre che in questo contesto di equilibrio emotivo quando si parla di oggetto, si parla di persona fisica o immagine mentale, potrebbe essere un ricordo o oggetto, proprio materialmente un oggetto, che la nostra mente rileva come potenzialmente pericoloso, potenzialmente pericoloso e dunque non innesca un'emozione di paura in questo caso ma appunto innesca la rabbia che ha il suo tema che è quello di eliminare questo oggetto con qualsiasi mezzo a mia disposizione. Dunque la rabbia, diciamo per semplificare, è un'emozione tra le sette la più indisciplinata in assoluto, indisciplinata perché la sua reazione, il comportamento relativo connesso a questa emozione è un comportamento di violenza, di violenza che può essere una violenza verbale, può essere una violenza fisica, può essere anche la violenza del silenzio, cioè qualsiasi forma violenta che va a eliminare l'oggetto che sta compromettendo il mio benessere. Ecco che all'interno di questa radice, di questa emozione, rabbia, convivono, convivono proprio per questa sua necessità di dover essere sempre all'altezza dell'eliminazione, convivono stati sentimenti, sub-emozioni, chiamiamole così, di varie, tutte riconducibili appunto alla rabbia. Pensate al risentimento, pensate alla stizza, pensate all'esasperazione, pensate alla frustrazione, quella che fa di grignare i denti, una frustrazione violenta che può portare a un forte furore nel momento in cui esplode all'improvviso e nella sua massima declinazione di pericolosità, pensate al rancore, il rancore che è questa forma mentis, che è questo fattore mentale, questo fattore mentale che porta a un rimuginamento costante sull'episodio, sulla persona, che avvelena potentemente sia il corpo che la mente. Il rancore, tenete conto l'esempio che amo sempre fare, il rancore nel momento in cui uno vive immerso in questo fattore mentale, diciamo che è come se si illude, si illude che bevendo un bicchiere di veleno farà del male all'altro, morirà l'altro. Il rancore è veramente un'evoluzione del sequestro emotivo generato dalla rabbia veramente molto, molto, molto pericoloso. Tra l'altro, ecco, sempre facendo riferimento al rancore, perché poi vi vorrei anche convincere a indagare su come la rabbia è velenosa, veramente molto velenosa per noi stessi e per le persone che ci circondano, ecco che il rancore è una pessima mente, è un pessimo atteggiamento mentale. Io dico sempre una cosa, per esempio, quando certe volte osservo delle spurie di rancore dentro di me, che ci sono due modi per morire, no? Un modo di morire in maniera saggia, tranquilla, serena, nella tranquillità e nell'osservazione di aver fatto bene nella propria vita, eccetera, oppure di morire rancorosi, morire rancorosi. Credo che questo è veramente una cosa che non ci dobbiamo augurare e che già solo questo motivo, già solo questo pensiero, cioè di lasciare negli ultimi istanti della nostra vita una mente di rancore, ecco, già questo dovrebbe convincerci a lavorare, indagare questa emozione, e cercare veramente di lasciarla andare il più possibile. La rabbia, tra l'altro, se pensiamo a livello sociale, a livello di relazione con gli altri, sia in ambito lavorativo che in ambito familiare, è una vera e propria emozione che permette abuso e violenza. Abuso perché, tenete conto, ahimè, che la rabbia si scarica sulle persone che amiamo. La rabbia viene proprio scaricata a terra, attraverso la messa a terra della nostra mente, viene scaricata principalmente e maggiormente sulle persone che amiamo, perché comunque la rabbia dà una fortissima distorsione cognitiva e in quel momento lì ce la prendiamo con tutto e tutti e riteniamo che chi ci è vicino possa ascoltare, possa subire questa nostra violenza interiore che appunto si scarica a 360 gradi. Dunque, attenzione, ecco, attenzione anche a questo, attenzione a considerarla un'emozione utile, e adesso ne parleremo anche un secondo di questo, perché quando proviamo rabbia, quando siamo innescati dalla rabbia e quando gli automatismi psicosomatici, viscerali e cognitivi del corpo, parole, mente, sono in preda a questa emozione che catalizza completamente tutte le risorse, si impossessa di tutte le risorse cognitive e non cognitive, l'abuso è la violenza, è l'espressione, l'espressione di questa emozione, proprio perché deve andare a eliminare l'oggetto, la persona che compromette fortemente il mio benessere. tenete conto che per uno scatto di rabbia possiamo benissimo trovarci anche privati della nostra libertà, trovarci condannati a anni di carcere o addirittura a pene detentive importanti, come possono essere ergastoli, eccetera. è un'emozione che va assolutamente investigata e osservata. C'è da dire, c'è da dire che il mondo occidentale ha, tra virgolette, una stranissima relazione con questa emozione, per esempio per la psicologia buddista, per la filosofia orientale, appunto di stampo buddista tibetano, la rabbia è sempre, comunque, un'emozione non utile. Cioè proprio non c'è via di scampo su questo. E poi magari vi spiego anche un pochino perché. Il mondo occidentale, invece, se per la paura, se la paura è l'emozione per il quale ci sono il più alto numero di studi e di patologie anche legate alla paura, la rabbia ha da sempre, dalla notte dei tempi, poi adesso così ci divertiamo a fare anche qualche esempio storico, ha da sempre, dalla notte dei tempi, alimentato il dibattito se era utile o non utile esprimerla. Dibattito molto interessante, dibattito assolutamente molto interessante, vivo ancora ai giorni nostri, assolutamente vivo ancora ai giorni nostri. Tra l'altro spesso voi mi chiedete delle letture, e qui ve ne consiglio una. C'è un bellissimo libro, leggibilissimo e anche abbastanza breve, edito da Mondadori, dove Paul Ekman, uno dei massimi studiosi di questa emozione, e sua santità il Dalai Lama, dibattono proprio su questa emozione. Proprio a botta e risposta, domanda e risposta, eccetera. Molto interessante, molto bello. Si chiama Felicità emotiva, edito da Mondadori. Ecco, se vi interessa questo tema, approfonditelo attraverso questa lettura, poi c'è una fantastica bibliografia, e trovate veramente tanto, tanto, tanto altro. Allora, pensate che a partire da Aristotele, e tutta la filosofia greca, pensate a Seneca, col suo Deira, Deira, dibattono, dibattono in maniera molto approfondita su questa emozione, sulla rabbia, e sul decidere, sul immaginare, comprendere se era un'emozione utile o non utile. Nel Deira, il buon Seneca ne parla come la più turpe, dice proprio passione, la chiama passione, che è tra le più turpe di tutte. Poi ne parla come una follia di brevissima durata. Ecco, ancora prima di lui, lo stesso Aristotele, che guarda caso, tra l'altro, abbastanza prima di Seneca, chiaramente, e contemporaneo del Buddha, si trova anche lui a ragionare su questa emozione, che di fatto, nel momento in cui ne siamo rapiti, ci porta a essere simili a dei selvaggi, a degli animali selvaggi. Il comportamento che noi abbiamo in preda alla rabbia è un comportamento, ripeto, di forte distorsione cognitiva, tant'è che, se pensate ai detti popolari, si dice accecato dalla rabbia, cioè nel momento in cui uno è in preda al furore, dunque la massima espressione di violenza, si parla di una persona che è accecato dalla rabbia, dunque vuol dire che non è in grado di intendere, di volere, e a quel punto lì, appunto, mena fendenti a destra e a sinistra manca. Perché? Questa è una mia personale interpretazione. Il dibattito occidentale, appunto, che parte dalla filosofia greca sul tema della rabbia, è stato probabilmente alimentato anche da un fattore molto, molto importante che doveva essere preso in considerazione, cioè la necessità di andare in guerra, la necessità di studiare qual era la forma mentis del guerriero ideale. Ed ecco che il tema della rabbia non può essere, diciamo, confinato immediatamente nel ruolo al quale io sono più affezionato di quello di una emozione che se non investigata è assolutamente pericolosissima da agire. E dunque questa necessità di andare in guerra, di identificare, appunto, quali erano le emozioni, l'ira di Achille, quali erano i profili psicologici ideali per poter essere, per poter primeggiare nell'arte della guerra, è chiaro che è stato approfondito moltissimo, moltissimo questo tema. Tant'è che, appunto, la domandona, secondo me, utile e non utile, è anche legato a questo fattore ambientale, sociale, nel quale alcune popolazioni, appunto, usavano lo strumento della guerra come uno strumento per appropriarsi di quello che li rendeva veramente felici. Dunque, insomma, c'è anche il tema guerra verso pace. Cambiamenti fisiologici. Ecco, cioè, la rabbia è un'emozione che genera, tra l'altro, dei cambiamenti fisiologici veramente unici e assolutamente importanti a livello fisiologico. Cioè, pensate agli occhi che lampeggiano, pensate al respiro affannoso, pensate ai pugni che si stringono. Tutto il sangue confluisce nelle mani, tra l'altro. Cioè, proprio da un punto di vista di setup fisiologico provvisorio, ogni emozione determina, attiva, da un punto di vista proprio fisiologico, dei setup provvisori atti a rispondere usando quei comportamenti che sono tipici di quell'emozione lì. Ecco, le mani che prudono, avete presente quando si dice prudono, gli prudono le mani dalla rabbia, i capelli che si rizzano, il collo che diventa rosso e che si ingigantisce. Ecco, sono tutte espressioni, sono tutti cambiamenti fisiologici un po' tipici del terribile Hulk. Avete presente il terribile Hulk nell'eroe della Marvel era quello che nel momento in cui si arrabbiava diventava il terribile Hulk. Tra l'altro, ecco, a proposito di questo, nell'ultimo, credo nell'ultimo, adesso so che qui tra gli allievi di questa sessione ci sono dei patiti e dei fans sfegatati di Star Wars. Dunque, non so se c'è qualcuno esperto di Avengers. Nell'ultimo Avengers, Hulk non riusciva a trasformarsi, no? Mi ricordate che si pigliava schiaffi per cercare di innescare la rabbia perché era l'innesco, l'essere sminuito, l'essere umiliato da questa doppia personalità che c'è nel terribile Hulk portava appunto a quella trasformazione fisiologica che lo faceva diventare fortissimo, invincibile e che poteva appunto distruggere qualsiasi cosa. Il tema dell'essere sminuito, dell'essere umiliato, dell'essere insultato sono temi che contengono fortissimi inneschi, detonatori che atti a far esplodere effettivamente questa emozione. Vi avevo promesso di parlarvi anche un po' del mondo social rispetto social, dunque Facebook, eccetera, rispetto a questa emozione qui. Mi sono inventato ieri un hashtag che veramente non è mai stato usato, tecnorabbia. Mentre tecnostress chiaramente c'è, tecnorabbia non c'è. Ed è per farvi capire un po' come funziona la correlazione tra sminuiti insultati e il ruolo che ha la persona che in quel momento sta agendo così nei miei confronti. guardate, basta che guardate qualsiasi thread social dove appunto le persone che non si conoscono incominciano a insultarsi e dirsi le peggio cose e a usare un linguaggio offensivo, rabbioso, perché rabbia non significa solo menare le mani o uccidere una persona, ma significa anche ferirla, esercitare violenza e abuso attraverso l'uso del linguaggio altamente offensivo. Ecco, come funziona questa tecnorabbia nell'ambito web social? Funziona semplicemente che quando una persona che noi non conosciamo e pertanto non ha diritto di commentarmi o di giudicarmi o di etichettarmi nell'ambito del rapporto di critica giudizio che ahimè è uno degli esercizi e degli sport preferiti dall'essere umano, Criticare, etichettare, giudicare, commentare, eccetera, eccetera. Allora, nel momento in cui io leggo a un mio post, a un mio commento qualcuno che con un certo tono che tra l'altro io non posso sentire ma semplicemente leggere dalle parole, dalla scrittura, dunque mi manca tutto il paraverbale e il non verbale da un commento su Facebook, ecco che il sentirmi sminuito da quel commento e magari leggerci una volontà di insulto da parte di una persona che non conoscendomi non ha alcun diritto di farlo scatena la tecnorabbia, per cui noi siamo in grado anche di dormirci male su una roba del genere, cioè siamo in grado di andare a dormire con una mente per niente tranquilla e completamente impregnata, completamente catalizzata, colorata da questo rimuginamento, da quello che prima abbiamo chiamato da questo risentimento, ma cosa dice, ma come si permette, eccetera, che ci porta a un potentissimo sequestro emotivo legato a questa emozione e tra l'altro io amo sempre dire che arrabbiarsi fondamentalmente al di là che non serve a niente ci fa ammalare proprio fisicamente, proprio fisicamente. Ci sono un sacco di patologie oggi certificate medicate dalla scienza medica, dunque non è, non stiamo facendo così affermazioni al di fuori dal contesto scientifico, ma patologie cardiocircolatorie, patologie legate allo stomaco, reflussi gastrici, ulcere, ci sono patologie legate a stati infiammatori cronici, fibromialgia, eccetera, 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 che hanno una fortissima correlazione dallo stato mentale, dal fattore mentale proprio di bellicosità, rancore, risentimento, gelosia, invidia, cioè tutte declinazioni di questa emozione che è veramente in grado di avvelenarci la vita. Ora però che cosa succede? Che cosa succede? Che il modo con cui noi pensiamo, il modo con cui noi ci relazioniamo con noi stessi, la mente che noi usiamo per ragionare, per discernere, eccetera, eccetera, crea, genera delle latenze, genera delle predisposizioni, ha delle abitudini che nel momento in cui reiteriamo costantemente dei pensieri afflittivi e diamo adito alle emozioni afflittive, distruttive di agire in nome per conto nostro, ma non perché qui io voglio sgravarmi dalla responsabilità, ma all'interno degli automatismi che ci vengono trasmessi dalla trasmissione di DNA. La rabbia, come le altre sei emozioni universali, sono emozioni salvavita che hanno permesso l'evoluzione dell'uomo fino ad oggi, attraverso tutte le risposte che le emozioni hanno generato per rispondere a dei fattori ambientali a cui io mi devo adattare o su cui devo intervenire affinché non compromettano la mia esistenza. Ecco che il continuare a usare oggi come oggi, dove la rabbia francamente vorrei dire che è forse una delle emozioni meno attuali, cioè oggi come oggi forse possiamo risolvere molto di più senza adottare la rabbia. Ecco che lasciando spazio a questa emozione e ragionando attraverso questa emozione, comportandomi attraverso questa emozione, genero delle predisposizioni a delle abitudini, dunque genero delle latenze che generano delle predisposizioni a delle abitudini comportamentali dove di fatto poi io divento quella roba lì, diventa proprio il mio tratto caratteriale, il tratto caratteriale della persona rancorosa, rabbiosa, eccetera, eccetera, eccetera. Qui però c'è chi la pensa in una maniera e chi la pensa in un'altra e su questo è bello perché il mondo è bello perché vario, perché c'è proprio una frangia occidentale tra di noi, tra di noi comuni pensatori e persone normali che agiamo la nostra vita tutti i giorni, che ritengono la rabbia sinonimo di forza e di status symbol, cioè nel senso che se tu sei uno che si arrabbia facilmente, sei uno da rispettare e qui si crea una distorsione cognitiva, ma non da rispettare perché sennò me meni. No, da rispettare perché scusatemi il termine sei un figo, cioè è uno che non te la manda a dire dietro, è uno che veramente se lo fai arrabbiare sono affari tuoi. Ed ecco che qui a bomba ritorniamo su rabbia utile, rabbia non utile. Io prima di incominciare credo di poter fare uno share di screen prima di incominciare mi sono andato a ho scritto arrabbia utile non utile su google no? E volevo farvi vedere volevo farvi vedere questa questo ve lo faccio vedere dopo in realtà non riesco a tirare fuori la pagina però la leggo qui scusate perché non riesco a tirarla fuori vi avevo preparato quella dopo e mi è apparso un articolo di focus della rivista italiana focus che dice la rabbia sto leggendo qua la rabbia è un'emozione molto potente e che ti permette di ottenere quello che desideri c'è capito provate a scrivere rabbia focus poi dopo provate a scrivere rabbia focus e ci troverete proprio focus rivista ci troverete questa affermazione è un'emozione che è utile al fine di ottenere quello che desideri capite siamo un po' cresciuti siamo un po' cresciuti siamo un po' cresciuti con questo potente misunderstanding cioè che rabbia uguale forza uguale status symbol e di fatto è necessario agirla è necessario arrabbiarsi perché altrimenti diventa difficile che le persone capiscano cosa io voglio diventa difficile che io possa ottenere quello che desidero e dunque agisco attraverso questa emozione questa emozione che diventa una distorsione cognitiva perché appunto agisco con violenza e dunque danneggio me stesso e danneggio gli altri è stata talmente forte nel mondo occidentale questo tema della rabbia utile della rabbia utile che al di là di quello che abbiamo detto del mondo della filosofia greca legato ad Aristotele Seneca e appunto a tutti i vari filosofi che hanno approfondito questo tema che voi pensate che nel duecento e nel trecento addirittura alcuni medici elaboravano teorie per esempio un erudito famosissimo orientale medio orientale del millecento credo dodicesimo o undicesimo secolo si chiamava Ibn Butlan era convinto aveva scritto un trattato dove l'uso della rabbia cioè proprio il far arrabbiare le persone e dunque fondamentalmente lui si metteva lì accanto a queste persone e gli ricordava episodi della loro vita che li facevano arrabbiare profondamente lui era convinto che la paralisi e gli stati post malattia cioè di apatia di debolezza eccetera potessero essere curati proprio attraverso la rabbia e su questo ma non era il solo non era il solo perché troviamo trattati dal 1100 al 1400 1500 dove appunto si continua il mondo occidentale non non si arrendeva al fatto di non adottare più questa emozione ma addirittura l'ha introdotta l'ha introduceva in campo in campo medico specialistico cioè proprio per guarire le persone per guarire gli stati di debolezza eccetera eccetera fino ad arrivare a un signore meraviglioso un certo Ruggero Bacone siamo nel 200 il signor Ruggero Bacone nel 200 scrive un trattato un trattato la cura della vecchiaia e la conservazione della giovinezza tutto incentrato sul tema della rabbia dove addirittura la rabbia veniva usato come elisir della giovinezza cioè si riteneva che il fatto che ti facesse vampare la faccia che ti portasse sangue nel viso eccetera eccetera generasse poi degli stati di lucentezza della pelle che combattevano le rughe combattevano eccetera 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 dunque c'è stato questo per dirvi che il mondo occidentale ha una sorta di attrazione nei confronti di questa emozione qui e la continua a ritenere utile anche oggi come oggi per cui pensate all'imprenditore di grido o il mondo del lavoro eccetera dove comunque si dice devi affrontarlo con il coltello tra i denti in maniera che tu ti devi conquistare attraverso una desensibilizzazione delle tue emozioni e con il coltello tra i denti ti devi proprio conquistare il conquistabile al fine del tuo status sociale della tua carriera e di tutto quanto è necessario per arricchire per rispondere al tuo desiderio di felicità e in questo percorso storico che in questa in questa in questo incontro mi è piaciuto fare perché è importante capire bene no? bene da dove qual è il nostro rapporto culturale con questa emozione qual è il rapporto che continuiamo a avere e che ci ancora oggi ognuno di noi ha ancora dei dubbi su questo cioè quando la rabbia è utile quando non è utile ma è solo un'emozione ogni tanto è utile confondiamo rabbia con indignazione per esempio l'indignazione sociale è importante se ci sono dei comportamenti che mi fanno indignare è ovvio che l'indignazione è uno strumento che se usato in maniera non violenta può effettivamente cambiare qualcosa ma se l'indignazione diventa un'espressione della rabbia e dunque attinge a un comportamento violento ecco che danneggiamo noi stessi e danneggiamo le persone che ci stanno intorno guardate che questo mondo della rabbia utile entra anche in ambito psicologico entra in ambito psicologico quando Freud agli inizi del novecento incomincia a lavorare sul tema di esprimere la rabbia e non covare la rabbia come soluzione terapeutica e su questo anche se sono aperte scuole di pensiero che addirittura hanno generato terapie negli anni cinquanta in America esisteva una terapia che si chiamava ventilation therapy che era applicata dai centri al tema della disintossicazione dove l'espressione furiosa della rabbia veniva ritenuto come il punto di svolta della terapia per sganciarsi dalla patologia legata all'intossicazione e alla dipendenza dunque noi diciamo al contrario di una psicologia buddista io non sto dicendo che ce n'è una meglio e una non meglio su questo non mi fraintendete io faccio parte di una scuola che comunque va a investigare la mente nella non utilità della rabbia ma su questo lascio veramente a voi l'indagine e la casistica anche personale perché sicuramente è un'emozione che da un punto di vista evoluzionistico per l'uomo gli ha permesso tutta una serie di conquiste oggi come oggi noi dobbiamo portarci a investigare la mente investigare la rabbia per andare a capire se effettivamente è un'emozione che può essere utile o invece danneggia profondamente le persone allora che dirvi per quanto riguarda il mondo legato all'investigazione della mente propria della psicologia buddista vi dicevo la rabbia è assolutamente un'emozione non utile viene considerata rabbia avversione una delle dei tre inquinanti principali ignoranza avversione e attaccamento che fanno parte della natura dell'uomo dunque questo significa che anche in questo contesto l'aggregato corpo mente cioè la natura dell'uomo è in maniera naturale portata a sperimentare rabbia dunque quando noi sperimentiamo rabbia o quando sperimentiamo paura qualsiasi emozione noi sperimentiamo la prima cosa intelligente da fare è rivolgersi con gentilezza e con amore nei nostri confronti e non giudicarci non commentarci non etichettarci ma cercare di creare quello spazio per relazionarci con questa emozione potente in quanto è naturale provare rabbia dunque questo è veramente molto importante nell'investigazione della mente e nell'ambito della psicologia buddista ci sono sei afflizioni radice di cui una di queste è la rabbia che compromette potentemente la possibilità di disintossicare la mente di disintossicare il corpo attraverso anche non solo il discernimento e non solo la conoscenza ma anche attraverso la pratica meditativa e di raggiungere stati mentali di illuminazione la rabbia appunto fa parte di una delle sei afflizioni radice ci sono tre veleni sei afflizioni radice che rende impossibile questa cosa queste sei afflizioni radice a loro volta si scompongono nell'ambito dei 51 fattori mentali che stanno alla base della psicologia buddista si scompongono in 20 fattori secondari di cui 12 di questi 20 sono legati all'emozione della rabbia ecco perché in questo contesto la rabbia è considerata un'emozione totalmente inquinante perché inquinante e totalmente debilitante della possibilità di raggiungere una un corpo e mente flessibili all'interno di una pratica di attenzione di consapevolezza e di discernimento della mente dunque sulla rabbia non c'è via di scampo per quanto riguarda il mondo della psicologia buddista viene considerata esclusivamente un'emozione distruttiva non impiegabile a meno che non si siano raggiunti dei virtuosismi tali per poter osservare la rabbia ma agire senza rabbia semmai il virtuosismo sta lì io posso osservare che c'è della rabbia dentro di me ma sono in grado attraverso il discernimento attraverso la pratica attraverso la reiterazione del gesto che lascia andare e che osserva quali sono i motivi quali sono i detonatori e gli elementi scatenanti della rabbia posso lasciare andare l'agire la rabbia e osservare che dentro di me c'è della rabbia ok qui c'è una tema molto interessante se vogliamo investigare ancora un po' prima di aprire alle domande c'è un tema molto importante che è il tema spesso l'affermazione adottata a tutto campo che noi come esseri senzienti ma anche umani ma anche compreso il regno animale cerchiamo sempre la felicità cerchiamo la felicità e non la sofferenza vorrei ribaltarvi questo tema perché per andare a capire che cosa intendiamo per felicità perché altrimenti se ci fermassimo a questo tipo di osservazione che appunto tutti quanti cerchiamo la felicità e non la sofferenza e che la felicità è importante per la nostra vita non c'è ombra di dubbio essere felici è assolutamente importante ecco che potremmo andarci a confondere con quali sono i me intanto che cos'è la felicità cioè dobbiamo avere chiaro per noi che cos'è la felicità e su questo adesso vi consiglio una pratica di investigazione della mente che poi è una pratica di meditazione ma che potete fare semplicemente analiticamente andando a rispondere alle domande che vi porrò e allora voler ribaltare questo concetto e se mai adottarne un altro che è molto importante nell'ambito della pratica di che osserva la mente che è quello di rinunciare alla felicità di questa vita questo è un passaggio molto importante per chi affronta la filosofia buddista cioè il tema di rinunciare alla felicità di questa vita cosa significa cosa significa significa essere in grado di andare a osservare bene che in questa vita così com'è cioè nel momento in cui io me la vivo come ho la possibilità di vivermela senza assolutamente dover discernere in questa direzione qua cioè è una scelta spirituale filosofica di benessere eccetera quella di andare a investigare la mente in questa direzione qua in questo contesto rinunciare alla felicità della vita si intende rinunciare a quello che nell'ambito della della mente buddista sono chiamati gli otto dharma mondani cioè sono otto condizioni che sono quelli che nella natura dell'uomo esistono e che determinano il concetto di felicità e dunque noi nella nostra natura di corpo mente di aggregato corpo mente proviamo un forte attaccamento a questi otto desideri chiamiamoli otto desideri in questo contesto dharma lo traduciamo così ma per capirci otto desideri allora quattro sono desideri e quattro sono non desideri ve li leggo per capirci allora la nostra mente prova un forte desiderio di ottenere beni materiali e questo è il primo la nostra mente prova un forte desiderio e dunque un forte attaccamento nel momento diciamo che è un desiderio che ha una componente di attaccamento afflittivo molto forte legato al desiderio di felicità e agi dopodiché prova un forte desiderio e pertanto genera attaccamento a una buona reputazione e dopodiché genera un forte attaccamento all'essere alla lode all'essere lodati dopodiché ci sono quattro non desideri che sono l'opposto dunque un forte desiderio a essere liberi dalla mancanza di beni materiali a essere liberi da infelicità e disagi da essere liberi da una cattiva reputazione e da essere liberi da critiche questi quattro desideri e quattro non desideri sono quelli che stanno alla base di quel processo di attaccamento che noi proviamo verso il mondo esterno e che al fine di ottenere i risultati che provengono da questi otto ambienti mentali siamo disponibili a qualsiasi cosa pensate al desiderio di beni materiali allora il desiderio di beni materiali di per sé non è una cosa cattiva intendiamoci bene di per sé il desiderio di beni materiali o il desiderio di felicità e agi se uno lo prende di per sé non è una cosa cattiva uso la parola cattiva così almeno ci capiamo quando invece diventa un'afflizione potente e diventa un agire di grasping cioè di voler sempre prendere dall'esterno e dunque di spostare completamente all'esterno la ricerca di felicità e quando io agisco con un'intenzione malevola dunque l'intenzione sta alla base se il desiderio di felicità e agi è un desiderio sano o un desiderio che genera sofferenza a me stesso e agli altri è in funzione dell'intenzione che sta alla base delle mie azioni ok dunque la rabbia spesso e volentieri entra a gamba tesa ed è quell'emozione che di cui abbiamo bisogno per poter agire quando proviamo un forte attaccamento a oggetti che generano la mia felicità o la mia infelicità allora a quel punto lì se compromettono il mio benessere ecco che io agisco potentemente attraverso la rabbia dunque il desiderio di essere liberi da una cattiva reputazione per esempio non è di per sé un desiderio distruttivo lo diventa nel momento in cui le mie azioni sono volte a danneggiare l'altro non tengono più in considerazione né me stesso né l'altro e a quel punto diventano altamente distruttive al fine che per affinché le mie azioni siano potentemente distruttive l'emozione di cui io ho bisogno è fondamentalmente la rabbia cioè ho bisogno materialmente di arrabbiarmi per distruggere eliminare l'oggetto la persona la situazione per il quale io provo un attaccamento e per attaccamento non si intende solo perché mi genera felicità ma perché assegno ho una forte distorsione cognitiva per cui l'oggetto la persona è il responsabile totale della mia infelicità in questo caso e dunque provo è una forma di attaccamento che in realtà diventa poi avversione e dunque fin quando io non l'ho eliminato non non potrò essere felice questo che cosa comporta comporta una totale la rabbia de-responsabilizza completamente la persona che prova rabbia nel momento in cui io provo rabbia non ho alcun dubbio che ci sia una possibilità che ci sia una mia responsabilità all'interno di questa emozione ma assegno la totale responsabilità della mia infelicità all'oggetto esterno che la mia mente osserva in un primo momento con i cinque sensi o con la mente nel momento in cui è un ricordo e dopodiché condisce con i 51 fattori mentali secondari di cui 20 abbiamo detto di cui appunto 12 dei 20 secondari sono relativi a questa potentissima emozione che cosa fare per non provare rabbia allora innanzitutto vi ricordo che le emozioni fanno parte anche se non crediamo lasciate perdere le leggi del karma in questo momento lasciate perdere la reincarnazione lasciate perdere tutto questo mondo qui in maniera che ci troviamo su una base che può accumunare un pochino tutti gli ascoltatori quella del fatto che le emozioni sono tramandate dal dna ok perché nella parte più antica del nostro cervello cioè nel cervello rettile c'è una scatola blindata inaccessibile che contiene le sette emozioni universali intese proprio come degli algoritmi che a fronte di situazioni esterne percepite dai sensi scatenano dei setup psicologici e fisiologici atti a rispondere all'ambiente ok cioè dunque non provare rabbia è assolutamente impossibile dunque non mi interessa promuovere pratiche per non provare rabbia perché di fatto la rabbia in 12 millesimi di secondo esplode mi interessa se mai proporre metodi per disinnescare i comportamenti propri della rabbia perché sono quelli che sono distruttivi e violenti dunque io posso benissimo osservare che c'è della rabbia dentro di me e non agire la rabbia che non significa farla esplodere dentro di me perché anche quello significa non agire la rabbia non significa taccio e non dico niente così la bomba a mano mi esplode in pancia no significa avere una possibilità di mediazione con questa emozione di accogliere accogliere questa di incontrare e di accogliere la sofferenza generata da questa emozione dunque stiamo parlando proprio di accoglienza di incontro perché attraverso l'incontro e l'accoglienza che io posso mediare con i miei stati emotivi anche quelli più distruttivi e non correre il rischio perché la rabbia me lo fa correre di commettere atti di abuso e di violenza di cui potrei pentirmi e di cui la società potrebbe accusarmi e potrebbe appunto privarmi poi del bene più prezioso che è la libertà allora uno dei primi metodi come al solito scusate perché dice vabbè faccio dici sempre stesse cose allora uno dei primi metodi fondamentali di disinnesco immediato di questa emozione è esercitare la mente quando non la proviamo e dunque ecco che la pratica la pratica la pratica è intesa in questo senso esercitare la mente a tornare sul respiro allungandolo se voi vi osservate guardate vi faccio fare un esperimento a tutti quanti una delle prime una delle tante reazioni fisiologiche fisiche della rabbia è stringere i denti vi prego stringete la mascella e mentre lo fate osservate il vostro respiro stringete la mascella siete 207 in apnea è vero o no che il respiro si è bloccato se voi se voi stringete le mani anche insieme perché i pugni si chiudono con la rabbia provate a stringere anche i pugni sentirete una tensione muscolare e un blocco diaframmatico a livello anche dello stomaco il passaggio successivo da un punto di vista fisiologico è che è incominciata è a iperventilare iperventilate perché le ghiandole surrenali hanno bisogno di scatenare adrenalina nel sangue e perché alcuni vasi sanguigni hanno bisogno di allargarsi c'è bisogno di un aumento di pressione e di convogliare il sangue in determinate parti del corpo tra cui le mani eccetera 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 allora digrignate di nuovi denti bloccate vi si blocca il respiro adesso allungate il respiro e lasciate andare alcuni di voi sentiranno persino brividini nelle gambe brividini nei capelli eccetera il tornare sul respiro è il più potente sistema di disinnesco emotivo dovete tornare sul respiro e dovete allungare il respiro e dovete allungare il respiro proviamo allungarlo se voi vi ricordate nelle pratiche di meditazione è la prima cosa che si insegna prestare attenzione al respiro nella sua ispirazione momento di pausa ispirazione momento di pausa perché perché abbiamo bisogno di rilassare il corpo la parola e la mente è perché abbiamo bisogno di stabilizzare il corpo e la parola e la mente questa è una potente attività di disintossicazione attenzione non vi sto vendendo la pratica meditativa come la pilloletta da prendere nel momento in cui siete arrabbiati non è questo la pratica meditativa ha bisogno della reiterazione del gesto affinché la mente generi delle nuove latenze generi delle nuove predisposizioni e generi delle nuove abitudini esattamente come abbiamo fatto continuando a pensare in maniera compulsiva magari per chi ha dei rancori irrisolti e che reitera il gesto del rancore e dunque diventa rancore dunque per capirci la meditazione ha bisogno di una pratica costante ha bisogno è una è una pratica dove il risultato dove voler misurare i risultati con il metro dopo i primi 20 minuti diventa veramente un po' impossibile ma sicuramente nel momento in cui voi lo fate generate delle nuove latenze delle nuove predisposizioni e delle nuove abitudini da un punto di vista di disinnesco poi nel momento in cui voi sentite che state agendo la rabbia lo stare sul respiro quello sì scientificamente vi aiuta a cambiare alcuni parametri fisiologici tra i quali nel momento in cui voi allungate il respiro la pressione si abbassa per esempio avviene una iniezione di ormoni della felicità eccetera fin dai primi fin dai primi tre santi respiri dunque quello è già una cosa importante che potete imparare imparare a fare dopodiché vi consiglio di farlo mentre andate a prendere l'autobus eccetera di introdurre questa consapevolezza del respiro sempre nelle vostre attività quotidiane sempre nelle vostre attività quotidiane perché vi permette veramente di continuare a coltivare uno stato di rilassamento e di stabilità che sono la base poi delle eventuali se uno le vorrà fare meditazioni analitiche che possono andare anche a osservare appunto quali sono gli oggetti di attaccamento e avversione e il mio consiglio veramente per coloro che praticano la filosofia l'osservazione della mente l'investigazione mentale andate a studiarvi bene 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 gli otto dharma mondani gli otto dharma mondani sono fondamentali cioè si parte da lì per poter investigare poi la mente rispetto al grande tema di rinunciare alla felicità di questa vita intesa come desiderio afflitto come desiderio rinunciare alla felicità di questa vita non significa non essere felici significa rinunciare a oggetti di desiderio che sono potentemente che hanno un'attività cognitiva di proiezione mentale compulsiva e che distorcono la realtà di quell'oggetto lì che acquisisce una sua natura autonoma di felicità solo con quella penna lì io potrò essere veramente felice cioè stiamo dando all'oggetto un significato intrinseco di natura autonoma a se stante che in realtà non ha che in realtà non ha per coloro invece che non sono pratici eccetera eccetera il tema qual è? andare a osservare con grande amore con grande gentilezza nei nostri confronti perché in quel momento quelli che stanno provando una grande sofferenza la sofferenza è la mia è la mia sofferenza in quel momento ma andare a osservare questa mia sofferenza a cui io provo tra l'altro un grande attaccamento perché la cosa divertente è che tutti quanti cerchiamo la felicità e non la sofferenza però proviamo un grande attaccamento alla sofferenza questo ragionateci un po' su questo tema la mia sofferenza la mia sofferenza a se stante autonoma indipendente alla luce della responsabilità degli altri sono gli altri che generano la mia sofferenza ecco cercate di creare uno spazio di discernimento lì dentro e così come siamo potentemente abbiamo il potere di co-creare la nostra felicità perché poi comunque ci sono degli oggetti esterni di cui abbiamo bisogno siamo potentemente in grado e capaci di co-creare la nostra sofferenza e dunque andando a lavorare sulla nostra responsabilità di co-creazione che noi possiamo incominciare piano piano a lasciare andare quell'inutile sofferenza generata dal rancore dal risentimento dalla stizza dalla rabbia eccetera eccetera che prima o poi puntateci secco perché lì vincete prima o poi vi genereranno comportamenti violenti nei vostri confronti e nei confronti delle persone che vi circondano partirei con le domande Lara ok te le fa Maurizio Maurizio wow ciao Mauri ciao buonasera buonasera a tutti mi sentite? come no li vediamo anche bello come il suo vai allora ci sono un bel po' di domande allora la prima domanda è esiste una rabbia giusta? se sì come capisco che la mia rabbia è giusta e che non è una reazione eccessiva? ok allora guarda come si chiama mi dite anche il nome della persona perché mi piace parlare a tutti voi ma parlare anche personalmente chi l'ha fatta? ce l'hai? Carlo Carlo grazie Carlo per la domanda allora Carlo giusta o ingiusta è una proiezione mentale soggettiva dunque purtroppo non la possiamo adottare perché intanto chi ci avrà davanti ti dirà che per lui non è giusta o è ingiusta la tua reazione dunque qui è una dinamica che non serve a nessuno dei due perché non è che c'è uno più intelligente e l'altro meno intelligente dunque fondamentalmente io non parlerei di rabbia giusta o ingiusta io parlerei di comportamenti distruttivi o costruttivi allora nel momento in cui il tuo comportamento a fronte della rabbia è distruttivo per te stesso e per le persone che ti stanno intorno non ti serve e dunque chiamiamola ingiusta anche se non mi piace questa etichettatura nel momento in cui tu provi rabbia la senti e sei in grado di parlare con questa persona dicendo guarda perché hai fatto i tre profondi respiri perché ti sei posizionato sul respiro perché se no non ce la fai e dici guarda in questo momento la cosa che hai detto mi fa provare una fortissima rabbia cioè sento veramente un grande dolore dentro non sono in grado di risponderti adesso perché se no non riuscirei a contenermi mi prendo cinque minuti ma ti vorrei spiegare meglio che cosa provo e che cosa secondo me è importante che noi due capiamo ecco se questa è la tua azione dietro c'è una rabbia potentissima ma sei stato pacificamente violento usiamo questa parola sei stato pacificamente violento allora è probabile che tu apri un canale empatico e tu possa veramente essere ascoltato e ascoltare l'altro prossima allora la prossima domanda è di Francesco ha fatto diciamo qualche considerazione quindi mi atterrei di più alle domande in senso stretto sì grazie perché si parla di sette emozioni sapevo che fossero sei senza il disprezzo no sono sette nel senso che poi adesso c'è un grande studio sulla vergogna e dunque probabilmente diventeranno otto si parla di sette emozioni perché sono le sette emozioni universale codificate in contesto darwiniano dunque da tutta la scuola di pensiero e di indagine scientifica che nasce con Darwin e arriva fino a Paul Ekman che è un darwiniano in questo contesto si intendono emozioni che provano tutti gli esseri senzienti compreso il regno animale e il disprezzo è una di queste cioè il fatto di sentirsi superiori quantomeno nel mondo umano è un'emozione trasversale a tutti quanti disgusto disprezzo rabbia tristezza felicità sorpresa e paura sono le sette emozioni universali ok Francesco un altro Francesco differenza tra disinnesco e repressione repressione è già una brutta parola così com'è no? da un punto di vista della lingua italiana stai reprimendo qualcosa vuol dire che stai comprimendo che stai schiacciando disinnesco è una tecnica che si basa sul lasciare andare cioè io mi sono innescato non voglio agire quei comportamenti relativi a quell'emozione perché sarebbero distruttivi dunque sono in grado di vedere questo e dunque lascio andare non comprimo e non reprimo lascio andare perché posso agire con una mente completamente diversa non significa non agire lasciare andare lasciare andare significa togliere lasciare andare quella componente distruttiva al fine anche in maniera un po' determinata di dire guarda a me così non va ma senza insultare una persona nel momento in cui tu reprimi è probabile che poi un giorno ci sarà una goccia che fa traboccare un vaso allora dall'altra parte non capiranno come mai sei esploso come una mina vagante perché di fatto a forza di reprimere gocce reprimere gocce reprimere gocce a un certo punto arriva la moschicina della situazione che ti fa affondare la nave perché il carico è troppo forte dunque reprimere non serve mai sempre dobbiamo esprimere dobbiamo esprimere in maniera non distruttiva ma costruttiva è molto difficile sono d'accordo con voi è molto difficile ma siamo animali molto intelligenti porca dirindindina no? cioè dunque è una nostra responsabilità questa ancora di più all'uscita da questo tunnel di questo periodo coronavirus birbirbirabam perché le emozioni in gioco quando riusciamo dalle nostre case saranno tante saranno tante tante emozioni in gioco dobbiamo incominciare a essere responsabili delle nostre azioni distruttive Gandhi sono certo che era un incazzato nero scusatemi il termine la parolaccia sicura non era arrabbiato Gandhi mica ma certo che era arrabbiato è arrabbiato sì provava rabbia provava tristezza provava provava risentimento per tutto quello che subiva il popolo indiano ma l'espressione era un'altra ok ok c'è più di qualche domanda in cui per esempio Sara oltre a chiedere se si parla della pericolosità del reprimere quindi tu l'ho già risposto però più di qualcuno mi chiede come smaltirla come elaborarla che modalità ci sono per non rimanere abbenenare certo certo ma guarda allora bisogna andare a cercare qual è il bisogno che c'è dietro un'emozione al di là delle sette emozioni universali ognuna cova un bisogno che è anche che è un pochino meno universale questo bisogno questo bisogno è personale è alla luce il bisogno è alla luce di quello che è stata la nostra vita fino ad oggi è alla luce di come siamo cresciuti è alla luce di che educazione abbiamo avuto di che percorsi abbiamo fatto e i bisogni sono tutti differenti dunque non è che c'è un bisogno standard dietro però se lo dovessi chiamare in maniera che ognuno lo declina un po' come vuole il bisogno forte prepotente che c'è dietro la rabbia è un bisogno d'amore è un grande bisogno d'amore scava scava vedi vedi almeno per il lavoro che ho fatto io eccetera eccetera mi sono reso conto che c'era un forte bisogno d'amore a un certo punto ho incominciato a cercarlo all'esterno poi mi sono reso conto che non mi davo amore che mi ero talmente anestetizzato che non ero in grado di essere amorevole gentile compassionevole con me stesso dunque se volete diluire potentemente questa emozione e se la volete se ci volete mediare se la volete trasformare attraverso la mediazione con essa ci vuole grande accoglienza grande incontro con se stessi e dunque bisogna cominciare a darsi amore bisogna cominciare a essere felici grazie alle risorse di felicità che abbiamo all'interno di noi altrimenti caschiamo negli otto desideri mondani e a quel punto lì siamo fregati perché avete visto che fondamentalmente quando ve le ho letti vi ci sarete un po' ritrovati tutti sono quelli che stanno alla base della distorsione cognitiva di che cosa mi rende veramente felice che cosa mi rende veramente felice allora uno se li prende mi rende felice bene i materiali essere lodato non avere avere una buona reputazione essere libero dalla mancanza di questo essere libero dalla mancanza di questo ed ecco che è un modo di procedere che non rinuncia a quel desiderio ricchissimo di componente di avversione o attaccamento è questo che dobbiamo è un lavoro bellissimo guardate che è un lavoro bellissimo anche perché una delle cose più belle è veramente essere consapevoli di questo bisogno d'amore e di interdipendenza che abbiamo con noi stessi e con gli altri questa è una grande svolta ok continuo allora Roberto ci chiede potrebbe esplicitare un cammino proprio quindi tappe penso pratica medico per gestire la rabbia in modo che non sia distruttivo e ti aggiungo anche un'altra domanda che dice c'è un allenamento per abbassare i livelli di rabbia allora la prima cosa che noi dobbiamo fare nel contesto della mia scuola di riferimento è disintossicare la mente disintossicare la mente da quel procedere compulsivo legato al rimuginamento legato al al seguire le emozioni che poi alla fine ti portano ti portano in dei periodi refrattari in dei sequestri emotivi molto importanti e più andiamo avanti più siamo andati avanti nell'evoluzione dell'uomo e più questo modo compulsivo di pensare compulsivo da un punto di vista sia cognitivo che viscerale cioè dunque nell'ambito proprio di entrambi i sistemi ha portato a una forte intossicazione a una forte predisposizione a una grande abitudine alle emozioni distruttive all'espressione distruttiva delle emozioni ecco diciamo meglio all'espressione distruttiva delle emozioni dunque per quanto mi riguarda e dunque io devo far riferimento a quello che ha funzionato per me dunque vi parlo da praticante da praticante e da persona che ha praticato anche molto per relazionarsi in maniera diversa con la rabbia per quanto mi riguarda a me ha funzionato moltissimo la pratica di meditazione che all'inizio era veramente dedicata moltissimo alla pratica di attenzione di dare alla mente qualcosa di nuovo da fare e di reiterare dei gesti reiterare dei gesti che potessero creare un'abitudine diversa che era quella del discernimento per poi poter andare a discernere su che cosa che cosa significa la felicità per ognuno di noi guardate qui c'è una bellissima meditazione che vi avevo promesso le famose quattro domande che vi ho detto prima scrivetevele e provate a ragionarvi a ragionarci un po' in questi giorni provate a ragionare un pochino con mente serena con mente tranquilla in questi giorni è importante ancora di più mantenere una mente tranquilla una mente serena provate a farvi una prima domanda che cosa mi rende veramente felice e osservate le risposte non state giudicare commentare ma questa è meglio questa è più figa questa è meno figa questa è davvero praticante buddista questa no osservate le risposte non commentate non giudicate tenete la mente tranquilla e rispondete alla domanda che cosa mi rende veramente felice e magari tenetevi lì lo specchietto degli otto desideri mondani dopodiché fatevi una seconda domanda che cosa vorrei ottenere dal mondo dall'ambiente dagli altri dalle persone che amo dalle persone che mi circondano per essere veramente felice seconda domanda dopodiché vi fate una terza domanda qual è la trasformazione interiore la virtù che vorrei coltivare quello che vorrei potenziare di me insomma qual è la trasformazione interiore che ritengo importante praticare e sviluppare per essere veramente felice e dopodiché c'è una quarta domanda che cosa vorrei donare di me stesso al mondo agli altri all'ambiente beni materiali e immateriali che cosa vorrei donare agli altri al mondo all'ambiente a tutto ciò che è interdipendente con me per essere veramente felice queste quattro domande rientrano in una meditazione molto cara ad Alan Wallace che lui chiama la meditazione per la fioritura umana dove si usa proprio la creatività della mente non una mente compulsiva che concettualizza che concettualizza in maniera compulsiva etichettando giudicando commentando ma osservando veramente le risposte a queste quattro domande è la pratica di queste quattro domande che vi potrebbe che vi può portare a comprendere qual è la felicità genuina e che è una felicità che parte innanzitutto interiormente da un lavoro interiore e da un'amorevole assunzione di responsabilità e di comprensione che a seconda di dove io posiziono la mente sperimento o felicità o sofferenza a parità di oggetto l'oggetto fuori non cambia prossima domanda allora sempre qui è un tema abbastanza particolare perché Francesco chiede e più anche qualcun altro chiede suona parecchio strano questo fatto che nel buddismo la rabbia sia un qualcosa comunque sempre da evitare da rifugere fondamentalmente mentre nella psicologia moderna invece la rabbia è trattata in un modo non perfettamente allineato con il buddismo assolutamente certo è un dibattito come dicevamo all'inizio vivissimo interessantissimo dove non c'è una risposta dove non c'è una risposta una risposta definitiva che confronta appunto questi due mondi vi ho consigliato anche questo libro felicità emotiva a Paul Ekman sulla santità dal Dalai Lama trovate appunto veramente questo dibattito sulla rabbia fondamentalmente sono due scuole di pensiero completamente diverse il tema centrale è quello del comportamento del comportamento adottato se il comportamento che tu adotti genera sofferenza psicologica e fisiologica a te stesso e all'altro l'emozione non è utile se poi genera sofferenza fisica perché picchi qualcuno è ancora di meno dunque fondamentalmente non è tanto non provare rabbia ma è dove posizioni la mente quando provi rabbia affinché tu non agisca la rabbia credo che il tema interessante sia questo ok un'altra domanda come far capire ad una persona che sente di aver bisogno della sua rabbia che la stessa non è salutare per lui ah una persona esterna a noi allora guarda io faccio parte cioè io sostengo sempre una cosa che noi per le menti degli altri non possiamo fare niente noi possiamo intanto ascoltare questa persona perché nel momento in cui una persona è molto arrabbiata ha bisogno di essere veramente ascoltata cioè dunque noi dobbiamo metterci in ascolto empatico e osservare questa persona non solo dall'esterno ma osservarla anche dall'interno e poi dall'esterno e dall'interno e fondamentalmente se ce lo chiede gli possiamo raccontare qualche cosa insomma certo li possiamo ma fargli capire è proprio fuori dalla nostra possibilità cioè nel senso che questa persona deve generare interiormente una 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 rinuncia alla sofferenza della rabbia e deve dire voglio lavorarci perché voglio rinunciare alla sofferenza che questa rabbia mi provoca certo ci potrebbe essere una forte distorsione cognitiva perché potrebbe dire e butto una bomba atomica e distruggo tutti quanti così almeno non ci sarà più sofferenza dentro di me non è questo dunque fondamentalmente quando voi trovate delle persone molto innescate emotivamente dategli o datele il vostro ascolto empatico dove per ascolto empatico non significa ascoltare e pensare che c'è la lavatrice da svuotare il cane da portare fuori poi lo riesco no significa avere quella capacità attenzionale di stare lì e magari di dirglielo anche prima io ho cinque minuti per te ma saranno cinque minuti dove ti ascolto con tutto il cuore internamente esternamente internamente esternamente contemporaneamente e questa è l'unica maniera per per aiutarlo nel suo momento presente fare capire qualcosa a qualcun altro quando non l'abbiamo capito noi ragazzi io io ci ho un po' rinunciato anche nell'ambito della mia della mia attività di formazione eccetera io non voglio far capire niente a nessuno cioè propongo delle teorie propongo dei metodi propongo degli strumenti e poi sta alla pratica di ognuno al discernimento di ognuno all'investigazione di ognuno capire se funzionano per sé o se non funzionano perché sarebbe eccessivamente presuntuoso immaginare di poter far capire certe volte ci sono delle persone che noi amiamo molto e che stanno molto male ma lì noi dobbiamo legarci le mani alla lingua perché bisogna stare attenti in quei momenti le persone molto sofferenti fanno presto a identificare un oggetto esterno a loro come fonte della loro sofferenza e a tagliare completamente i ponti bisogna semplicemente ascoltare questo è già un grande è un semplicemente che è un potentissimo aiuto potentissimo aiuto ok ci sono quanto manca abbiamo ancora cinque minuti allora la rabbia repressa bucca usare ansia? oh sì 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 certo ansia ansia e stress chiaramente sono delle sindrome da un punto di vista scientifico sono delle sindrome di adattamento a una situazione ambientale a cui dobbiamo rispondere da un punto di vista di questo contesto ansia e stress sono il gas di scarico di un motore emotivo che sta sballando di giri e dunque genera una forte ansia sì c'è qualcuno che chiede se l'ansia copre un dolore di fondo penso che tu abbia già risposto sì 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 certo certo assolutamente l'ansia l'ansia è correlata ma stati emotivi dolorosi assolutamente guarda ci sono molte domande che chiedono come comportarsi con persone rabbiosi che hanno una comunicazione rabbiosa che possono essere persone indefinite o addirittura si fa riferimento a figli adolescenti eh certo certo eccetera certo eh certo certo ovvio che poi troppo facile dire beh bisogna distaccarsene ma nel senso che abbiamo delle responsabilità sul lavoro in famiglia eccetera e la vita ci porta a contatto con persone molto rabbiose che noi dobbiamo che ci generano una forte sofferenza perché ci scaricano addosso la qualsiasi non è un bel contesto cioè perché a nostra volta potremmo generare rabbia perché a quel punto la persona diventa colei o colui figlio non figlio lasciate perdere perché i gradi di parentela nella rabbia non servono che compromettono il mio benessere e dunque a quel punto lì anch'io mi innesco e reagisco con rabbia eh qui bisogna veramente 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 darsi grandissima compassione a noi stessi e provare una forte compassione per le persone che abbiamo davanti che in quel momento hanno una mente molto afflitta che non è in grado che non è in grado di 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 abbassare i toni di 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 non agire alla rabbia eh non è una bella situazione è una situazione che ci troviamo costantemente dentro possiamo cercare di ascoltare possiamo cercare innanzitutto sono un'occasione di pratica per noi perché possiamo osservare i nostri inneschi possiamo osservare le nostre emozioni cerchiamo di lasciare andare ciò che non serve perché entrare in dinamica significa mettersi le mani addosso o comunque compromettere la relazione quantomeno per un periodo di tempo circoscritto spero eh ma fondamentalmente bisogna praticare noi in quel momento lì bisogna stare noi sul respiro dobbiamo stare noi sul disinnesco sul lasciare andare e al limite poi possiamo anche agire ma non violentemente possiamo dire guarda io non credo che tu in questo momento sia in grado di poter parlare di questa cosa cioè non ditele perché sei arrabbiato perché la risposta sarà no ma io non provo rabbia la mia è ma io volevo questa è chiarezza non innescate le persone dicendogli che cosa provano ditegli semplicemente perché bisogna prendere delle decisioni quando siamo attaccati la decisione non è di controattaccare ma la decisione è guarda io mi stacco un momento da questa situazione perché credo che non possa arrivare da nessuna parte e praticate però praticate compassione non rabbia Fabio cioè io un'ultima domanda ti farei perché questa si discosta un po' dalle altre e chiede e per quanto riguarda la rabbia verso noi stessi poi la mette sulla meditazione una volta che prendo contatto il mio respiro cosa mi dico quando provo rabbia quindi verso me stesso assolutamente niente ti dici cioè fondamentalmente stai sul respiro e intanto disintossica sai che stando sul respiro se puoi farlo eh perché certe volte siamo anche qui dobbiamo essere gentili con noi stessi ci sono certi momenti che è talmente forte l'emozione che non riusciamo a meditare e questo è normale cioè non è che siamo dei guru o degli illuminati e già questo dobbiamo essere molto amorevoli con noi stessi in quel momento forse è meglio andare a farsi una passeggiata fuori e magari poi piano piano mentre passeggi e i toni si abbassano un po' magari te ne stai sul tuo respiro mentre cammini eh adottate cioè siate creativi su questo perché potrebbe benissimo essere che avete un'emozione talmente forte che andarsi a sedere nella ritualità del cuscino l'incensino il gonghino e la lucina bassa sia impossibile andate a fare una passeggiata e poi quando avete disintossicato un pochino incominciate a dare alla mente qualche cosa da fare ma fondamentalmente innanzitutto state sul respiro quando si sta sul respiro non bisogna dirsi niente bisogna stare sul respiro ogni volta che ci distraiamo con amorevole gentilezza prendiamo nota della distrazione la lasciamo andare durante la espirazione e ce ne torniamo a osservare il nostro respiro non c'è assolutamente niente da dire questa è un'attività che disintossica potentemente disinfiamma potentemente corpo parola e mente ma è scientificamente provata sono stati fatti esperimenti anche all'università di Pisa all'università di Roma nei vari master eccetera cioè già dopo venti minuti di meditazione camminata in questo caso cammino e me ne sto sulle mie sensazioni tattili anche del respiro piuttosto che un body scan eccetera i vostri parametri fisiologici e psicologici tendono al rientro fondamentalmente che cosa che cosa ti devi dire forse c'è una cosa che ti devi dire ogni volta che osservi il rimuginamento che si innesca di nuovo perché io perché lei perché lui perché io perché lei perché ha detto perché ha fatto perché io perché lei perché lui e che addirittura poi sposta anche la mente all'indomani perché domani quando me lo ridice io gli dirò scenari no magari manco ci arriviamo a domani però domani vedrai che io sarò in grado di ecco quando lì ti devi dire che questo non serve a niente cioè devi dire questa mente serve ti devi fare una domanda questa mente mi serve mi serve questa mente è una mente che genera felicità o genera sofferenza se la risposta è è una mente che genera sofferenza non devi andare in un dubbio afflittivo e dire ma avrò ragione o non avrò ragione no se genera sofferenza perché c'è della sofferenza in quel momento quella mente non ti serve e dunque questo ti devi dire la mente questa mente non mi serve e la lascio andare ok Fabio c'è una persona che chiede semplicemente dei libri o letture sulla rabbia e sulle altre emozioni distruttive o dalle altre emozioni allora guardate come possiamo fare allora intanto vi ho già detto vi consiglio due o tre testi il primo è quello che vi ho detto felicità emotiva Dalai Lama Paul Ekman poi vi consiglio un bellissimo testo di una monaca buddista che ha lavorato tantissimo sulla rabbia il testo si chiama lavorare sulla rabbia lei si chiama tubten chodron t-h-u-b-ten chodron c-h-o-d-r-o-n lavorare sulla rabbia partite da lì perché tanto è inutile che vi comprate 150 libri facciamo ecco anche lì osserviamo osserviamo che cosa mi renderebbe veramente felice avere tutta la biblioteca possibile immaginabile sulla rabbia tutti i testi no lasciate andare non vi serve vi genera afflizione questa mente nel momento in cui non trovate il libro vi arrabbierete con Amazon che non ce l'ha che è andato fuori con quello lasciate perdere vedete lasciate perdere leggetevi questi due entrambi sono dotati di una poderosa bibliografia e sulla base di quella poi piano piano approfondite dopo la fase di concettualizzazione e di conoscenza che è assolutamente fondamentale perché vi pana l'ignoranza dunque la conoscenza è assolutamente fondamentale però ricordatevi che ci dovete mettere accanto un'altra componente che è quella della pratica dopodiché dovete praticare è importante praticare perché solo la concettualizzazione è erronea e spesso e volentieri solo le menti afflittive sono errate generano la concettualizzazione genera menti afflittive che possono essere errate e a quel punto lì c'è una forte distorsione cognitiva che tra l'altro è tipica di questa emozione della rabbia che distorge potentemente cognitivamente la realtà del momento presente e a quel punto lì menate la mazza da baseball a 360 gradi dunque pratica 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 reiterate un gesto di pratica al fine di generare una latenza e una predisposizione e un'abitudine diversa al fine che l'abitudine diventi uno stile di vita uno stile di vita a quel punto a quel punto potete essere anche dei virtuosi della rabbia volete essere dei mozart della rabbia i mozart della rabbia benissimo c'è della rabbia ma agisco con amore e con compassione nei confronti di me stesso e di confronti degli altri allora sarete i mozart della rabbia i wolfhanger amedeus mozart della rabbia se no siamo cani sciolti simili a degli animali che ci ingolfiamo di rabbia che agiamo in preda all'istinto predatorio di uccidere eccetera eccetera così come quando ci ingozziamo di cibo che non siamo che non riusciamo a stare consapevoli sul piatto stare sul nostro respiro e su quello che mangiamo ci ingozziamo di cibo come farebbe un animale che quando come fa un cane quando gli metti una ciotola di cibo se lo ingozza no? Cioè dobbiamo reiterare gesti di consapevolezza e questo aiuterà a non agire panorami emotivi comportamentali legati alle emozioni distruttive Ok grazie Fabio è stato un piacere siamo arrivati siamo arrivati alla fine sono le otto e dieci sono le otto e dieci io veramente vi ringrazio tutti quanti è un tema ampissimo chiaramente ho galoppato anche molto insomma l'approfondimento sulla rabbia è veramente infinito lo facciamo all'interno di corsi di ritiri specifici eccetera ma sereni tranquilli tenete la mente tranquilla tenete la mente tranquilla e rivolge e ricordatevi che quando siete incacchiati neri c'è un bisogno d'amore verso voi stessi e verso gli altri partite da lì partite da lì e poi vi volevo dire un'altra cosa che sono molto felice di questa rassegna attivamente e devo ringraziare tanto FPMT Italia e l'arragatto che credo che ormai è un mese e mezzo che vive in diretta a gestire noi le locandine le cose scrivi quello butta quello fai le cose eccetera eccetera dunque un grazie di cuore tutto questo veramente è bellissimo perché abbiamo avuto l'occasione di conoscerci di condividere un sacco di robe eccetera eccetera so che l'intenzione è quello di continuare a tenere questi incontri a libera partecipazione perché è giusto così perché è giusto così perché c'è bisogno c'è bisogno insomma di ascoltarci di essere interdipendenti eccetera se avete voglia se volete se lo ritenete le donazioni sono possibili non sono obbligatorie per questi incontri però donare qualche cosina serve a poter sostenere tutti quanti questa questa magnifica attività che ha chiaramente dei costi di persone ha delle ore uomo dietro gigantesche ha costi di hardware software eccetera eccetera e ha bisogno di essere sostenuta dunque noi andremo avanti almeno da parte mia non parlo a nome per conto dell'FPMT perché non è mio compito cioè noi andremo avanti ma vorrei essere chiaro in questo c'è bisogno di sostenerle queste attività e perché possono essere veramente per tutti per tutti quanti per coloro che vogliono collegarsi che vogliono provare a capire qualche cosa che vogliono provare veramente a sperimentare nuove cose e vedere fondamentalmente se funzionano se funzionano e questo è quello che dovete fare permetteteci di continuare a dirvi cose affinché voi possiate vedere se funzionano per voi grazie grazie Fabio grazie a voi anche per questa conclusione scusate io poi sono un uomo di marketing quando parlo di soldi sono un uomo di marketing e genovese dunque quando parlo di soldi cioè figurati è un disastro non è mio ok grazie a tutti per la partecipazione grazie grazie a tutti a presto e alle prossime allora questo incontro verrà messo su youtube ok bene potete rivederlo per chi vuole fare la donazione tramite il sito fpmt c'è il link il paypal o il bonifico come si vuole e comunque ti ringrazio perché effettivamente questo è lo spirito di mettere a disposizione quello che viene fatto normalmente nei centri esatto dare un assaggio di quelle che sono le possibilità perché altrimenti magari persone che normalmente non vanno nei centri mai ci andrebbero e diciamo questa è un'occasione per aprire le nostre porte e farci conoscere ecco quindi poi quando ospitabilmente presto questa situazione finirà continueremo le nostre attività nei centri poi vedremo sull'online cosa fare però siamo molto felici di queste risposte